Stefano Volpato direttore commerciale di Banca Mediolanum, dottor Volpato nelle sue presenze precedenti abbiamo parlato dell'offerta di Banca Mediolanum ma anche della strategia commerciale però ovviamente i lettori di BluRating e gli utenti del sito BluRating.com che sono in molti casi consulenti finanziari sono interessati anche alle vostre politiche di retrucruiting, ai vostri programmi di allargamento della rete Allora le chiediamo, dottor Volpato, quali sono poi i profili che continuerete a cercare sul mercato nel corso dei prossimi mesi e nel corso di tutto il 2020? Beh devo dire che innanzitutto voglio dire che oggi la prospettiva di Mediolanum è una prospettiva molto diversa rispetto al passato, Mediolanum ha progressivamente cambiato pelle organizzandosi in maniera veramente importante in modo da cogliere quella che dal mio punto di vista è la grande opportunità Noi dobbiamo ricordare che lavoriamo in un mercato estremamente ricco che cresce moltissimo, io ricordo che se la famiglia italiana mediamente risparmiava il 10% del suo reddito lordo oggi siamo abbondantemente sopra il 20% quindi una massa di denaro importante che continua a crescere in maniera significativa Con delle esigenze come dicevo prima estremamente più complesse Ecco questo diventa il tema che noi poniamo anche dal punto di vista recruiting convinti come siamo che lo spazio che andrà a occupare il consulente finanziario che oggi si attesta intorno al 15% sarà gioco forza e questa è la grande bella notizia per tutti i consulenti finanziari destinato a diventare di gran lunga più importante come è negli Stati Uniti, come è nei paesi anglosassoni e come logico sia se guardiamo la cosa dal punto di vista della qualità del servizio che questa figura va a erogare ai clienti Detto questo Mediolanum è un gruppo dove il consulente finanziario e la nostra caratterizzazione è proprio il family banker oltre a gestire gli asset finanziari del cliente cura tutti i rapporti bancari, lo sviluppo del credito e gli aspetti importantissimi di tutela della persona e del patrimonio Questo ci consente di orientare l'attività di recruiting oltre che ai bancari anche per esempio al mondo assicurativo e di altre figure Chiedo scusa, a questi vanno aggiunti due ambiti di selezione specifici che riguardano due aree per noi strategiche su quali abbiamo investito moltissimo e stiamo continuando a investire in maniera importante e sono l'area del wealth management e dell'investment banking Quindi grazie alle rispettive direzioni aziendali sia wealth ripeto che investment banking che sono state create nel nostro interno Anche i grandi operatori del settore che quindi provengono dal mondo del private, dell'investment banking, del mondo fiduciario Possono avere un percorso dedicato a loro con la consapevolezza che Mediolanum rappresenta per loro come supporto un modello assolutamente integrato e quindi un modello unico Altro tema importante è quello del passaggio generazionale che per i consueti finanziari è molto sentito e noi siamo certi che con il percorso dedicato che abbiamo chiamato Progetto Next Possiamo rappresentare un approdo importante dal punto di vista professionale e anche dal punto di vista remunerativo Anche per quei giovani particolarmente talentuosi a cui affidiamo l'obiettivo di aiutare i wealth advisor e i private banker Quindi le figure senior a gestire i grandi patrimoni e quindi creare la base per un passaggio generazionale fatto ovviamente in maniera ottimale Grazie Grazie